No, 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 la foto, basta la foto. Allora fai il video. Allora fai il video. Ah, sto provando il video. Allora siamo qui con un noto avvocato, il quale è il promotore, lo studioso, è il promotore di una riforma costituzionale che noi approviamo al 75%. Se ti faranno parlare tu direi quali sono le tue obiezioni a questa riforma, per l'altro 25% siamo perfettamente d'accordo. Non è un'obiezione di critica, diciamo meglio, non è un'obiezione frontale, è solo una... Sentiremo le obiezioni e risponderò con un enorme piacere. Esattamente, perfetto. Grazie. Ok. Grazie.